Bene ragazzi, sono TommyProGamer E questo qui è un nuovo canale Io sono TommyProGamer Quello lì del canale dove portavo Clash Royale Un po' di FIFA Un po' di altre cose Questo canale invece Che è un nuovo canale Visto che io porterò per problemi che ho avuto Da password, email Faccio un nuovo canale Quindi avviso tutti i miei iscritti di iscrivervi Vabbè non erano tantissimi E quindi iscrivetevi Porterò molti video Di Clash Royale specialmente Ma anche della Playstation Ragazzi Questo qui era per accontentare i miei iscritti Che volevano i video sulla play E quindi ho dovuto creare un nuovo account Ragazzi Per questi miei iscritti Che li voglio accontentare Ragazzi Quindi ragazzi questo qui è il video presentazione del canale Vi volevo dire queste cose E quindi bella